è giunta l'ora ed è l'ora della società creativa la decisione spetta a te qui e ora tu influenzi il mondo un clic un clic di ognuno è la voce di miliardi di persone scegli sostengo la società creativa clicca sul pulsante e di sì sei tu che puoi cambiare il mondo è il nostro futuro ora dipende dalla tua scelta grazie